Hola todos, io sono Davide e oggi facciamo una top 3 prodotti che andremo a vendere durante il kufur che sarebbe praticamente gli ultimi 3 mesi dell'anno il primo prodotto che vi vado a mostrare è proprio il meglio sia per iniziare questi ultimi 3 mesi dell'anno che proprio per chiudere l'anno perché è un videoproiettore che serve per proiettare le immagini sia di Halloween che di Natale quindi è perfetto, iniziamo e finiamo l'ultimo quarto dell'anno questo prodotto lo vendevo già io l'anno scorso e ne vendevo davvero tantissimi però ho controllato e li stanno vendendo ancora adesso ovviamente perché sarà sempre Natale, sarà sempre Halloween quindi questi prodotti sono perfetti perché sono quelli che sono sempre verdi che secondo me sono i prodotti migliori anche questo prodotto è un sempreverde perché lo avrete visto ovunque, esiste da una vita però si vende ancora il nail lamp, quello per mettere le mani sotto farsi le unghie, avete capito cosa intendo? qua da qualche parte comunque vi metto la foto e anche questo perché va sempre? perché ogni anno ne buttano fuori migliaia migliaia di modelli diversi io li ho visti di tutti i colori con le lampade, con i led, con questo, con quello, con quell'altro ci sono davvero mille modelli questo prodotto qua va da una vita e sarà da 5-6 anni che va ho controllato e se ne vendono ancora parecchi e chiudiamo con l'ultimo prodotto anche questo è un sempreverde perché anche questo lo potrete vendere sempre lo potete vendere quest'anno, negli ultimi 3 mesi dell'anno lo potete vendere anche il prossimo anno sempre, davvero sempre e cos'è questo prodotto? l'incubatrice per le uova non lasciatemi ingannare dalle sole 5 vendite perché questo venditore l'ha effettuato tutta adesso ho controllato l'ha effettuato tutta settembre quindi il prodotto l'ho appena messo e ha già fatto 5 vendite quindi probabilmente solo con questo prodotto 10 o 20 vendite mensili si possono fare perfettamente anche perché ci sono tantissimi modelli diversi anche di questo prodotto c'è per 7 uova mi pare, c'è per 10, per 12 poi ci sono altri modelli molto più costosi ci sono dei modelli anche da 100-120 euro che ho guardato e ne vendono parecchi sotto in descrizione comunque vi metto tutti i link del prodotto così non dovete neanche sbattervi e andarli a cercare li trovate su CJ Dropshipping anzi sotto c'avete anche il mio link affiliato per iscrivervi a CJ Dropshipping e sotto nei messaggi fammi sapere cosa ne pensi riconoscevi già questi prodotti? li hai già venduti? o penserai di andarli a vendere? ripeto e come sempre iscriviti a questo canale davvero ragazzo è facilissimo clic tac e andiamo sei dentro era da un po' che non facevo questa cagatella e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti